Anche il Palazzo Alferi de Torris in Piazza Santa Giusta è tornato alla sua antica bellezza. Il palazzo è di proprietà della Fondazione Carispac che ha presentato il restauro aprendo le porte del magnifico palazzetto. Si tratta di un palazzo rinascimentale, datato tra il XVI e il XVIII secolo a causa della ricostruzione post-sisma del 1703. L'attività di restauro dopo il sisma 2009 è stata certosina e attenta. I lavori hanno permesso di riscoprire apparati decorativi di pregio, nascosti da precedenti lavori di manutenzione. L'edificio è in una zona strategica dove ci sono altri gioielli tutti aquilani, come la chiesa capoquarto di Santa Giusta e Palazzo Centi, sede della Regione. Il palazzo andrà all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ci collocherà gli uffici dell'ente, ma anche un centro di formazione e un laboratorio chimico di rilievo internazionale, che si occuperà anche di sostanze stupefacenti, un fatto che di certo porterà posti di lavoro in città e un movimento importante. Questa è un'altra delle cose che ci eravamo prefissi di fare e di concluderla con i tempi che si ritenevano giusti anche dall'amministrazione delle Dogane, perché questo è un palazzo che all'inizio voleva essere restituito all'attività culturale e basta, però noi come fondazione invece abbiamo pensato bene che si dovesse inserire in questo palazzo anche un discorso di attività produttiva. Tra le cose più importanti c'è questa, dove si insedia un'attività produttiva che addirittura potrebbe portare, porterà sicuramente, posti di lavoro, perché qui ci sarà la sede degli uffici della Dogana, ci sarà una realtà che attenzionerà le sostanze stupefacenti, la formazione del personale che naturalmente lavora intorno alla scoperta di questi stupefacenti e quindi una realtà importante per la città e una realtà importante per il centro storico. Oltre ai vertici della fondazione Cari spaccherano presenti il comune, la soprintendente ai beni archeologici Cristina Collettini e il direttore della direzione Lazio-Abruzzo dell'Agenzia delle Dogane, Davide Migiano.